inditti canelupo che mi ha attaccato in questa foto qua mi accompagna a buttare pocadone 22 e c'ha in mano la spazzatura e io gli ho scritto inculati bastardo infame di merda secondo me è una reazione proporzionata, secondo me è molto proporzionata no Paolo, secondo me è una reazione ponderata alla mancanza di rispetto subita che ti possa venire la cagarella a spruzzo stanotte mentre dormi e che tu ti debba cambiare le mutande appena alzato dal letto scivolerai sulla tua stessa, tua stessa merda battendo la testa e svenendo per due ore risvegliandoti dopo frastornato capendo che non era un incubo quello ma una bruttissima realtà va bene come risposta bene, ora mi sento meglio oh stamattina belli sfigati eh questo game perso follia proprio per quella con l'albaron grazie a tutti voglio giocare alla stessa forzale? Boh il fatto ragazzi è che ho un periodo che vorrete guardare anzi oggi ti dico potrei anche contare la live un bel po' sai ci rifletto oddio Paolo quanta cattiveria eh scusami cane non so cosa mi sia preso evidentemente quando mi dai della spazzatura un po' mi ci sento un abbraccio Paolo mi ami bella frastacca a 13 mesi king ti amo eh l'amore è qualcosa di grosso king gli ultimi game vinti con trash chi l'avrebbe mai detto grazie per voi per raid grazie king super scammato ah no ho visto grazie per i venti mesi king fox are in pre live Allora Io le varie semplari Non mi farò un'altra controllata Dei pick A Grandmaster West Pick Allora Jinx Sembra essere improvvisamente diventata sbroccata Ed ha anche un Pick rate altissimo Ok Anche Naudius Ok Vedete tutta la mia champion pool è in meta Incredibile Vorrei evitare di giocare a Yasuo Non sentite la musica? Fatto Fixed Renekton Volibar Ok Non debbi pick per Blitzkan di sicuro Però per la zirka dopo di sì Forse treman è il più forte Ci sta Abbiamo proprio un bel team Mi piace molto Abbiamo sia assassini che danno in percentuale Abbiamo una bella draft Abbiamo una bella draft Poi Blitzkan tendenzialmente risolve ogni draft Ti dà una front line Ti dà un ingaggio improvviso È un campione incredibile E' un campione incredibile Cristina Saranno 28 euro Ti puoi comprare Non lo so Due magliette Da Zara Forse una Ma che problemi C'hanno questi qua? Quasi se fece che in treno la matcia Let's go home A livello 1 Non dovrebbe avere la priorità Ovviamente Perché cucinano di più di noi Vediamo se riuscivano a zanarli al farm Ma dubito Vabbè Hanno pushato Direi troppo Era un flash Lo prendeva Non morì Un flash Me lo rubavo Allora Vediamo che fanno delle cazzetine Allora Voli bare top Ok Qui c'è un buco? No Si è chiuso Bene Non so manco io Perché quel mio non sia morto Ma comunque Il flash lo prendiamo in caso Allora Ah Lui dovrebbe morire Ma era troppo pushato Moriava anche a Volver Io c'ho il 3 adesso E' un'altro Non so manco E' un'altro Perchè Allora Muore? Eh, mi stessi. Uno, due, tre. Giocavo per un gank midlane. Per assurdo quel miss che ha fatto ci ha fatto prendere un flash in più. E' un buco. Carino. Vai. E questi qua muoiono facilmente. Però dobbiamo grabbarli chiaramente. Se è possibile sottotorre. Dove è male? Sottotitoli. Direi bene. Dove è possibile sottotitoli. Dove è possibile sottotitoli. Abbiamo swiftness, ricaricabili, pink. Andiamo al drake. Frozen com'è? Mi piace. C'è uno 3D. Forse sarebbe meglio fare il ricaricabile pink qua. La calina o è il flash? Ma non vogliamo mai. Ehm, non ho bot. Siamo ancora a livello 4. Un po' da merda. Usare la W ma secondo me non mi fa manco arrivare così tanto a prima botling. Quindi non la uso. Ehm, non mi fa manco. Ok, è un 2 per 1 Giochiamo per questo Killabile, forse Giochiamo per questo Grazie Grazie Il culo perché secondo me mi potevo salvare Ma è comunque worth, è 1 per 2 Ok Possiamo giocare per i Voidbrags Guardiamo per Volibear Bella quest Per noi abbiamo battuto Per noi abbiamo battuto Pieni i soldi questa regolare, c'è fornato in base Eh ma qua mica la tog Pieni i soldi 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 Pieni i soldi